Il ministro Urso, che è il responsabile del coordinamento delle attività spaziali su delega del primo ministro Meloni, sta adesso mettendo appunto una bozza di legge nazionale per lo spazio, di cui c'è la necessità, perché appunto con l'entrata, con i lanci di molti missioni e satelliti privati, c'è la necessità da parte dello Stato italiano e del governo italiano di verificare e certificare quello che viene messo in orbita, perché poi lo Stato italiano, in base agli accordi internazionali che sono stati sottoscritti al nostro Paese, ha la responsabilità di questi oggetti che vengono messi nello spazio. Quindi la legge porterà una soluzione a questa lacuna, mentre noi come Agenzia Spaziale Italiana stiamo cercando di supportare il settore privato in varie maniere, quindi non solo con i programmi di ricerca, sviluppo tecnologie e missioni, ma soprattutto dando un forte supporto alle giovani in realtà imprenditoriali, a spin-off anche industriali, quindi start-up e piccole e medie imprese. E questo lo facciamo attraverso una serie di azioni e di attività che vanno dal supporto alla fase di incubazione, quindi nascita e la crescita iniziale di queste aziende, lo facciamo in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, abbiamo 5 centri di incubazione attraverso un programma di accelerazione, anche questo a livello europeo, quindi dopo la nascita dell'azienda cerchiamo di supportarle per uno scale-up, quindi un'ulteriore crescita e poi stiamo supportando il settore anche attraverso le relazioni con fondi di investimento privati, con istituzioni europee come l'ABEI, il Fondo di Investimento Europeo, attraverso quella collaborazione che stiamo stringendo sempre di più con la Cassa Depositi e Prestiti e anche con istituzioni bancarie per far sì che anche i capitali privati possano supportare la crescita di aziende private e soprattutto dei giovani imprenditori e delle start-up.